ultimi dettagli per l'installazione della cartellonistica e la galleria coperta di san concordio verrà finalmente completata un lungo corridoio che ha lo scopo di collegare piazza aldomoro con via savonarola per rendere più agevole a genitori e studenti l'accesso al complesso scolastico interno al quartiere e poter decongestionare il traffico in viale san concordio durante l'orario di uscita dalle scuole oggi l'opera è stata visionata dalla commissione lavori pubblici del comune di lucca presieduta da marco santi guerrieri alla presenza dei tecnici dell'erp e della dirigente antonella giannini presente anche l'assessore lavori pubblici nicola bucchignani la galleria trova il plauso anche da parte della nuova amministrazione comunale nonostante fosse stata fortemente avversa soprattutto dai comitati di quartiere è stato fortemente contestato durante il corso della precedente amministrazione verissimo questo è l'umus della democrazia però i lavori così come sono stati poi fondamentalmente finite e determinati io credo che che sia poco da aggiungere che non magari lavorare ad alcune migliorie che poi in corso d'opera vedremo successivamente per i lavori della nostra commissione ovviamente oltre alla realizzazione della struttura durante i lavori sono state abbattute tutte le barriere architettoniche presenti nei parcheggi nel parco sono stati inseriti dei giochi in legno e la fontana storica che era prima in via nottolini sono stati riqualificati i percorsi degli autobus e anche dal punto di vista del verde urbano i dati sono positivi è vero che sono stati abbattuti degli alberi ma ne sono stati piantati 20 in più sono stati abbattuti degli autobus e anche dal punto di vista del verde urbano i dati sono stati abbattuti